Oh, eccoci qui, ancora location della mia cucina, dopo tanto tempo torno a fare un video su YouTube. Allora, sono Anthony Bottiglieri, per chi non mi conoscesse, fondatore di BetSystem, azienda di consulenza betting e sports trader professionista. Allora, ogni tanto mi capita, capita a me, capita al mio social cristian, di ricevere tramite il modulo di contatti dell'azienda, ma anche tramite banale mail, delle domande. Le domande come, come guadagnare uno stipendio con le scommesse, come guadagnare 20 euro al giorno con le scommesse, come guadagnare 30 euro al giorno con le scommesse. Oggi vorrei rispondere alla domanda su come guadagnare 20 euro al giorno con le scommesse sportive. Allora, partiamo da una premessa fondamentale, se voi puntate ad utilizzare le scommesse sportive come fonte alternativa di stipendio, mi spiace, state sbagliando tutto, a meno che voi non siete professionisti, ma se siete professionisti non venite da me a chiedere certe cose, le fate già per conto vostro. Allora, chi vuole fare betting deve avere già di per sé una buona base economica, una buona base finanziaria, perché fare betting, considerando il betting è speculazione, il betting è un'attività particolare in cui ci sono tanti alti e bassi potenzialmente, con tutto ciò che questo comporta a livello emotivo, beh, non riuscirete a farla tranquillamente, perderete tempo, perderete energie, perderete soldi, ve lo garantisco. Il betting per essere fatto professionalmente richiede serenità, è una persona che ha delle difficoltà economiche e non può fare betting, ve lo garantisco perché conosco tanti professionisti, ma io stesso che quando sono in uno stato emotivo alterato non riesco a performare come normalmente posso, ok? Quindi, fatta l'importantissima premessa che non si possa fare betting in sostituzione di un reddito, ma che può essere una fonte di reddito per incrementare le proprie entrate normali, Allora, 20 euro al giorno, come ho già detto in tante occasioni, come sicuramente molti di voi avranno avuto modo di leggere anche sul nostro sito ufficiale betsystem.net, quando si tratta di 20-30 euro al giorno, non si parla mai di effettivo guadagno giornaliero, ok? Non si può vincere tutti i giorni, non si può vincere nemmeno tutti i mesi addirittura, figuriamoci, ma si può realisticamente e potenzialmente andare a simulare un piano attraverso il quale, potenzialmente parlando, si possa arrivare a guadagnare quella cifra entro fine anno, cioè a fine anno in realtà, più che entro fine anno, di media giornaliera. Chi di voi ci conosce saprà che al netto di qualche prodotto purtroppo non è andato benissimo, che è stato archiviato come il buon Madbet che possumamente al Covid come software non rendeva più come prima, perché lo sapete, sono cambiate molte cose nel calcio dopo il Covid. Noi, per quanto riguarda gli altri prodotti, abbiamo ottenuto delle performance importantissime. Pensiamo per esempio al prodotto che ormai ci siamo, come prodotto principale dell'azienda, che fa anche l'80% del fatturato Football Pro, che dal 2021 ad oggi, è sempre questo in profitto, nel 2021 mi sembra che abbiamo fatto 8000 euro di profitto, l'anno scorso più o meno cifra analoghe, e quest'anno abbiamo anche superato quegli importi. Quindi, questo per dirvi che noi ci riusciamo, ci siamo sempre riusciti con Football Pro, ci siamo riusciti anche con altri prodotti del passato, che esistevano prima, Football Pro è semplicemente l'evoluzione di alcuni prodotti che hanno cambiato il nome e sono diventati Football Pro. E quindi ragazzi, è possibile, è possibile, però nulla di garantito, primo, ovviamente, perché di garantito in questa vita c'è una sola cosa che purtroppo è la morte, e in secondo luogo, bisogna poter seguire il prodotto in un'ottica annuale, perché se una persona mi viene a parlare di 20 euro al giorno, io parto dal presupposto che abbia delle difficoltà economiche, voglio un incremento del stipendio, e quindi nel momento in cui arriva il mese assorto, che arriva prima o poi, e perdi, anche se non momentanamente, 500-600 euro, quella persona smette di seguire, perché per lei 500-600 euro sono tantissimi. Quindi, partendo dal presupposto che il discorso vada fatto in ottica annuale, intanto io cammino perché lo sapete, mi piace camminare, vada fatto, ribadisco, in ottica annuale, considerando lo yield che noi abbiamo, è perfettamente possibile guadagnare 20 euro al giorno, e ci mancherebbe ragazzi, ma noi quest'anno, mi sembra da storico, ho parlato in questi giorni con Christian, siamo a circa 21.000 euro, un nostro cliente che opera con 140 euro fissi, è circa 21.000 euro, noi ufficialmente i nostri clienti diciamo di operare con circa 70 euro più o meno fissi, poi in realtà non è proprio lo stake fisso, ma il 95% delle operazioni sono a quello stake lì, quindi il cliente medio ha fatto 10.000 euro, e quest'altro ne ha fatti 21.000. Quindi, certo che è possibile, sono numeri certificati, attenzione, voglio dire un'altra cosa importantissima, quando io dico che sono numeri certificati, non intendo dire che sono numeri che noi abbiamo sul nostro Excel, ok? Assolutamente, per cortesia, perché come vi ho sempre detto, come sicuramente avrete avuto, ribadisco molti di voi, modo di leggere sugli articoli che io ho scritto su Belsistia.net, Excel lascia il tempo che trova, cioè Excel serve a noi per spiegare i numeri poi effettivamente conseguiti, perché se io notro lo storico di Blogabet a qualcuno che non ci capisce niente, dice, ok, ma ha fatti, ha numeri, quanto avete guadagnato? Qui io vedo unità, vedo yield, ma a soldi, quanto avete fatto? Quindi noi cosa facciamo? Noi vi diamo Excel, oltre a darvi Excel, voi potete chiedere il link per vedere i nostri numeri, ribadisco, certificati dalla piattaforma Blogabet, e in questo Blogabet potete andare a vedere che effettivamente le operazioni inserite in Excel e le operazioni inserite su Blogabet corrispondano, che siano identiche. Questo per dirvi cosa? Per dirvi ragazzi che, purtroppo il settore è veramente pieno, il 90-95% della gente che lo può operare da truffatori, non stiamo nemmeno parlando di cialtroni, di veri e propri truffatori, perché se io dico di aver fatto certi numeri con uno storico, quello storico è completamente inventato, quelle operazioni non sono mai esistite, non sono mai state comunicate, quella è truffa, non cialtroni, 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 e purtroppo è pieno di truffatori. Per questo noi abbiamo deciso da dicembre 2022 di tracciare le nostre performance di Football Pro su Blogabet. Io vi ricordo che Football Pro è il nostro prodotto principale, in realtà ormai è praticamente l'unico attivo, perché ci siamo concentrati lì, ci siamo veramente tanto concentrati lì, ci sono più di 1000 operazioni in un anno, è ovvio che ci siamo concentrati lì. In realtà abbiamo anche altri prodotti attivi, ma con pochissimi clienti, li facciamo cose un po' particolari, quello che è aperto a tutti, è acquisibile da tutti, acquistabile da tutti, scusatemi, è Football Pro. È un prodotto oggettivamente straordinario, eccezionale, che fa numeri clamorosi. Voi come potete andare a vedere poi in questo storico, vedrete che le quote che noi inseriamo, spesso sono molto più alte rispetto alle quote di chiusura, e non si può dire che ce le siamo inventate, perché quelle operazioni sono certificate in molti casi da Blogapet, è la piattaforma che ci permette in molti casi, quando le linee che noi accendiamo sono le linee principali, come linee principali, in tenolinea e se ne indica, ovviamente. Se io per esempio passo, come è stato fatto in questi giorni, un 2-1-bet nella Afici Cup, squadra del Turkmenistan, a 1,80 mi sembra, quella crolla a 1,50, quella lì è certificata da Blogapet, perché è crollata? Perché noi abbiamo vantaggio matematico, quel vantaggio matematico è dato dalla differenza tra la quota che noi accendiamo e la quota di chiusura. E lì è il nostro vantaggio, è lì che noi riusciamo a generare profitto. Ma per esempio giovedì noi avevamo il 2-1-bet o il 2 rimborso in caso di pareggio dello Sporting Lisbona a 1,50. 1,50 ragazzi, che praticamente è crollato, perché poi il 2 dello Sporting Lisbona ha chiuso a 1,55. Noi quando l'abbiamo passato in fase di apertura delle quote era 1,50 il drone-bet. Poi lo Sporting purtroppo il calcio rimane in 10 dopo 8 minuti e non vince la partita. È rimborso, perché fin da 1-1 è rimborso. Quindi noi abbiamo, non abbiamo vinto quell'operazione, ma se l'avessimo fatta mille volte realisticamente avremmo vinto, perché è reale che lo Sporting rimanga in 10 dopo 8 minuti. È stato un evento raro, un evento clamoroso. E niente, questo è. Voi se volete guadagnare queste cifre vi dovete affidare a professionisti che come noi abbiano soldi certificati da piattaforme esterne e che soprattutto non vi promettono mai remonti. Io ve l'ho sempre detto, chi vi dice che potete fare queste cifre con 500 euro di capitale, 100 euro di capitale vi prende in giro. Salvano i soldi. Questa è speculazione, salvano i soldi per fare soldi. Non grandi cifre, ma almeno, 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 quei 4.000 euro, 3.500 euro li dovete avere. Se no, non si va da nessuna parte. E ribadisco che queste performance vanno giudicate in ottica annuale, come normale che sia, perché periodi negativi non mancano. Niente, chiedo scusa se vi sto facendo venire in mal di testa e niente, questo va. Vi metto il link per contattare l'assistenza di BetSystem nella descrizione del video, così potete farvi mandare lo storico del 2023 e potete farvi mandare anche che altro? Sì, un account blog per verificare che quello che vi ho detto sia reale. E niente, vi auguro una buona continuazione e buon betting. Ciao a tutti.